venerdì 25 novembre 2022 lettura del vangelo secondo luca 21 29 33 in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli una parabola guardate il fico e tutte le piante quando non germogliano guardandoli capite da voi stessi che ormai l'estate è vicina così pure quando voi vedrete accadere queste cose sappiate che il regno di dio è vicino in verità vi dico non passerà questa generazione finché tutto ciò sia avvenuto il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno riflessione il vangelo di oggi ci presenta le raccomandazioni finali del discorso apocalittico gesù insiste su due punti sull'attenzione che bisogna dare ai segni dei tempi e sulla speranza fondata nella fermezza della parola di dio che scaccia la paura e la disperazione luca 21 29 31 guardate il fico e le piante gesù ordina di guardare la natura guardate il fico e tutte le piante quando già germogliano guardandoli capite da voi stessi che ormai l'estate è vicina così pure quando voi vedrete accadere queste cose sappiate che il regno di dio è vicino gesù chiede di contemplare i fenomeni della natura per imparare come leggere ed interpretare le cose che stanno avvenendo nel mondo i germogli sul fico sono un segno evidente che l'estate è ormai vicina così quando appaiono i sette segnali sono una prova che il regno di dio è vicino fare questo discernimento non è facile una persona sola non si rende conto di questo riflettendo insieme in comunità appare la luce e la luce è questa sperimentare in tutto ciò che succede la chiamata e non chiudersi nel presente bensì mantenere aperto l'orizzonte e percepire in tutto ciò che succede una freccia che si dirige verso il futuro ma l'ora esatta della venuta del regno nessuno la conosce nel vangelo di marco gesù arriva a dire quando poi a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce neanche gli angeli del cielo ed è pure il figlio ma solo il padre luca 21 32 33 in verità vi dico non passerà questa generazione finché tutto ciò sia avvenuto il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno questa parola di gesù evoca la profezia di isaia che dice ogni uomo è come l'erba e tutta la sua gloria è come un fiore di campo secca l'erba il fiore appassisce quando il soffio del signore spira su di essi secca l'erba appassisce il fiore ma la parola del nostro dio dura sempre la parola di gesù è fonte della nostra speranza ciò che dice avverrà la venuta del messia e la fine del mondo oggi molta gente vive preoccupata della fine del mondo alcuni basandosi in una lettura errata e fondamentalistica dell'apocalisse di giovanni giungono perfino a calcolare la data esatta della fine del mondo nel passato a partire dai mille anni citati dall'apocalisse si voleva ripetere l'anno mille è passato ma il duemila non passerà per questo nella misura in cui il duemila si avvicinava molti erano preoccupati c'era gente che angosciata per la venuta della fine del mondo si tolse la vita ma il duemila passò e non avvenne nulla non avvenne la fine del mondo nelle comunità cristiane dei primi secoli ci fu la stessa problematica vivevano nell'aspettativa della venuta imminente di gesù gesù veniva a realizzare il giudizio finale per mettere fine alla storia ingiusta del mondo qui sulla terra e inaugurare la nuova fase della storia la fase definitiva del cielo nuovo e della terra nuova pensavano che questo sarebbe avvenuto tra una o due generazioni molta gente sarebbe stata ancora viva quando gesù fosse apparso glorioso nel cielo c'erano persone che non lavoravano perfino più perché pensavano che la venuta fosse cosa di pochi giorni o settimane pensavano così ma fino ad oggi la venuta di gesù non si è ancora avverata come interpretare questo ritardo per le strade delle città la gente vede dipinte sui muri scritte che dicono gesù ritornerà viene o non viene e come sarà la sua venuta molte volte l'affermazione gesù ritornerà viene usata per intimorire le persone ed obbligarle a frequentare una chiesa determinata nel nuovo testamento il ritorno di gesù è sempre motivo di gioia e di pace per coloro che sono sfruttati ed oppressi la venuta di gesù è una buona novella quando ci sarà questa venuta tra i giudei le opinioni erano varie i sadducei e gli erodiani dicevano i tempi messiani ci verranno pensavano che loro benessere durante il governo di erode fosse espressione del regno di dio per questo non accettavano cambiamenti e combattevano la predicazione gesù che invitava la gente a cambiare e a convertirsi i farisei dicevano la venuta del regno dipenderà dal nostro sforzo nell'osservanza della legge gli esseni dicevano il regno promesso arriverà solo quando avremo purificato il paese da tutte le impurità tra i cristiani c'era la stessa varietà di opinioni alcuni della comunità di tessalonica in grecia appoggiandosi nella predicazione di paolo dicevano gesù ritornerà paolo risponde che non era così semplice come loro immaginavano e a coloro che non rivolavano dice chi non lavora non ha diritto di mangiare probabilmente si trattava di persone che all'ora dei pasti andavano a mendicare cibo presso la casa del vicino altri cristiani pensavano che gesù sarebbe ritornato solo dopo che il vangelo fosse stato annunziato al mondo intero e pensavano che questo quanto maggiore fosse lo sforzo per evangelizzare tanto più rapidamente sarebbe avvenuta la fine del mondo altri stanchi di aspettare dicevano non tornerà mai altri basandosi in parole di gesù dicevano con ragione è già in mezzo a noi oggi avviene la stessa cosa c'è gente che dice come stanno le cose sia nella chiesa che nella società stanno bene non vogliono cambiamenti altri aspettano la venuta immediata di gesù altri pensano che gesù ritornerà solo attraverso il nostro lavoro e annuncio per noi gesù è già in mezzo a noi è già accanto a noi nella lotta per la giustizia per la pace e per la vita ma la pienezza non è ancora giunta per questo aspettiamo con perseveranza la liberazione dell'umanità e della natura è Grazie a tutti.